... 51esima rassegna sui Nicola Internazionale. Siamo con Paolo De Castro, il nostro presidente che ci rappresenta in Europa. Siamo in un momento un po' difficile per questi nostri sui Nicoltori. Cosa possiamo fare per aiutarli? Sì, un momento molto difficile purtroppo perché mentre altri settori produttivi, penso ai formaggi di qualità, riescono a scaricare i costi di produzione su un maggior prezzo, un maggior valore dei loro prodotti, oggi i formaggi stanno andando bene, i prezzi sono cresciuti, sono cresciute le esportazioni, purtroppo questo non è avvenuto nella carne suina, per cui soffrono di un aumento dei costi ma con dei prezzi di vendita bassi e quindi veramente una filiera che sta soffrendo, che sta schiacciando i nostri produttori. Dobbiamo da una parte utilizzare al meglio le norme che già esistono, per esempio lo stoccaggio privato che c'è a Bruxelles, è stato già messo in moto, qualche piccolo segnale positivo l'ha dato, dobbiamo andare avanti e dobbiamo rafforzarlo. Dall'altra parte dobbiamo cercare di dare nuova linfa a strumenti che aiutino i produttori a gestire le crisi, purtroppo questa volatilità dei prezzi continuerà, quindi dobbiamo introdurre nuovi strumenti di gestione delle crisi. Su questo Bruxelles sta lavorando e dobbiamo fare in modo ovviamente di portarli a casa. Certo abbiamo l'etichettatura che è un fatto importante, importantissimo, portata a casa l'etichettatura d'origine della carne fresca anche per i suini, dovrebbe ormai diventare norma perché il Consiglio ha approvato ciò che il Parlamento aveva voluto, quindi un passo avanti sull'etichettatura c'è stato, dobbiamo però lavorare anche sugli altri strumenti. Quindi dobbiamo per forza dare una mano a questi allevatori, perché comunque è anche un'economia nazionale di base. Un'economia di base e poi non dimentichiamo che alimenta questa intensa produzione, siamo arrivati già a 13 milioni di cosce fresche per la produzione di qualità, penso al prosciutto di Palma, al prosciutto San Daniele, penso a tutta la rete delle produzioni di qualità certificata che abbiamo, è un importantissimo asset della nostra industria alimentare e quindi anche della produzione da parte degli agricoltori e degli allevatori. Quindi dobbiamo aiutarli a gestire queste situazioni di crisi, perché il mercato sicuramente riparte, però il rischio è che quando il mercato riparte molti agricoltori abbiano chiuso e noi invece dobbiamo assolutamente crescere, ma crescere anche dando reddito agli agricoltori. Senza reddito agli agricoltori non ci sono poi i suini, non ci sono poi le cosce fresche con cui fare i nostri prosciutti.